Ciao a tutti, io sono Mats Hedberg e insegno qui in questa meravigliosa e fantastica scuola che si chiama Fonderia delle Arti. Faccio parte dei docenti di chitarra, di Hard & Heavy e laboratori. Per me la cosa più importante a insegnare allievi è la musica, l'insegnamento non soltanto di esercizi, studi, tecnica, ma la versatilità dello strumento. Non soltanto un genere, così si trova anche un lavoro dopo. Oggi come oggi non basta soltanto stare in casa a suonare. Tu hai bisogno anche di film, YouTube, Facebook, vari media sociali per poter portarti avanti la tua carriera. Qui a Fonderia delle Arti è bello perché c'è un fermento di musicisti di un altissimo livello, di tutti i generi, più che altro ragazzi giovani che possono confrontarsi con gli altri. Tanti allievi, come altri maestri, hanno bravissimi allievi, però hanno voglia di suonare insieme. E questo è proprio l'ottimo di questa scuola, che è a un altissimo livello su tutti i fronti. Abbiamo sale da prove, molto forniti, molto belli. E l'auditorium qua, che è bellissimo, dove si può fare concerti e saggi vari. Vi aspetto qui con ansia, cerco di farvi vedere come funziona tutto. Buon proseguimento e ci vediamo a presto. Grazie.